Nido a Condor 1. Ho trovato delle informazioni su Luis Serra. Sembra facesse il ricercatore per la Umbrella. Umbrella? Avrei dovuto lasciarlo marcire in quel sacco. Ti invio tutti i dettagli. Dà un'occhiata, ma Aquila Reale è la priorità. Ricevuto. Mi dirigo verso la chiesa. Condor 1, chiudo. Grazie a tutti. Anche tu, eh? Fai attenzione, amico. Grazie a tutti. 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 e anche a tutti. Benvenuto. 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 I tuoi oggetti preziosi non serviranno a nulla nella tomba. Grazie a tutti. Eh, 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 grazie. Perché non provi una nuova arma, straniero? Potrebbe salvarti la vita. Ingrandirla un po' non nuoce di certo. È la dimensione perfetta per te, straniero. Le informazioni hanno un prezzo al giorno d'oggi. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto a tutto. Così si fa. Cominciamo a capire quali sono i tuoi gusti, amico. Bene, che posso fare per te? Torna presto a trovarci. Eh, 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 eh. Per te? Torna presto a trovarci.